Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, oggi un nuovo video dove testiamo alcuni dei nuovi prodotti della nuova linea di NYX Professional Makeup Bare With Me Non so se avete visto ma è uscita questa nuova linea di NYX che si chiama appunto Bare With Me ed è super minimalista Abbiamo dei prodotti skin, quindi dei primer, delle acque primer ma anche fissanti, dei fondotinta ad effetto naturale, dei blush in crema, prodotti anche dal packaging molto molto minimal Ed è una cosa che mi ha abbastanza incuriosito, quando pensiamo a NYX pensiamo a colori sparaflesciosi, molto pop, no? Quindi palette colorate, colori strani sulle labbra, tante texture, quindi questa svolta molto tranquilla mi ha incuriosita abbastanza Qui ho un po' di prodotti che mi sono stati inviati e volevo provarli con voi Ho questo qui che è il Bare With Me Hydrating Jelly Primer, quindi un primer dalla consistenza un po' gelatinosa Questo qui è uno spray che va sia a fare effetto primer ma anche a fissare il make up Ho dei blush in crema e dei fondotinta Il pack vedete che è super 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 tranquillo anche nei colori Anche la scritta Bare With Me ha un carattere molto tranquillo, quindi colpisce molto all'occhio secondo me Non ho un balsamo labbra, quindi provo un'altra novità, questa è di Fenty Beauty Ed è il Pro Kisser, che è semplicemente un balsamo labbra Con un profumo abbastanza neutro e niente, è fatto tipo lip gloss Non appiccica Ho tre tonalità del Bare With Me che ho scelto nel pacco che mi hanno mandato E devo cercare qual è la mia tonalità Ho Vanilla Nude, poi Beige Camel e True Beige Buff Questo è il True Beige Buff Ustia, potrebbe essere un match Questo è il Beige Camel Decisamente troppo scuro E questo è il Vanilla Nude Decisamente troppo chiaro per me in questa stagione Secondo me vince il True Beige Buff Prima però applichiamo il primer Siccome abbiamo due primer qui Questo lo utilizzerò come spray fissante alla fine Quindi come primer Utilizzerò l'Hydrating Jelly Primer Che è questo qui in vasetto Lo apro C'è una cosa qui per proteggere Una cosa di plastica per proteggere E non so se riuscite a vedere Però ha proprio la consistenza Super gelatinosa Sembra quasi bagnata Ce la prendo così tipo E si stacca un pochino Wow Non ha Non ha un profumo E la consistenza Cioè sembra di Di spalmarsi dell'acqua Dell'acqua un po' gelatinosa Ha senso quello che sto dicendo Tra l'altro che ridere Torna subito Più o meno subito Sì torna abbastanza subito Alla sua forma Senza grinze Perché io ovviamente Prelevando il prodotto Vedete faccio delle grinze E adesso fra poco Queste grinze non ci saranno più Che bomba A me queste cose Con le consistenze strane Boh Mi intrippano tantissimo Premier idratante Messo Mi Sento Leggermente appiccicosa Si capisce anche Da Suono Della mia Delle mie mani Sul mio volto Guardate La pelle Si attacca un po' Alle mani Magari è questo Il suo effetto Però appunto La sensazione È di volto Fresco E mi sembra Veramente Ad aver spalmato Dell'acqua Detto questo Io ero dell'idea Di mettere Il fondotinta Con il pennello E poi con la mia Real Techniques Tamponarlo Solo che se Mi si appiccica tutto Ho paura di fare strisciate Potremmo fare Metà e metà Faremo metà e metà Il colore abbiamo detto Che è True Beige Buff Mi metto un po' Sulla mano Ha una consistenza Cremosa Però non troppo Gnocca Ah no Beh Non fa troppe Non fa righette Come Come avevo paura Invece No Anzi Il prodotto Sembra che si aggrappi Molto bene Alla pelle La coprenza È molto Bassa D'altronde Bear with me È una linea Molto naturale Nel senso Che si dedica Un po' Alla bellezza Naturale Quindi senza Troppe Troppe sovrastrutture Basi Troppo Pensanti E cose di questo genere Allora Cosa dice Qui Dice Provides Fresh Face Look Quindi Un volto Molto fresco Quasi Non deve Sembrare truccato In effetti È molto Molto naturale Pensavo fosse Leggermente più luminoso Ma io sono anche Abituata Al mio Face and body Di MAC Che è super Glowy Super luminoso Dice che Uniforma l'incarnato È effettivamente Andato un pochino A camuffare Alcuni dei miei rossori Però Non li ha coperti Totalmente Proprio perché Comunque la copertura È bassa Dice infatti Provides Seamless coverage Quindi ti dà Una coprenza Ma Quindi Impercettibile Ecco Formula traspirante Molto leggera La pelle È luminosa Di certo Non è opaca Perché vedete Che il mio volto Continua ad avere dimensione Non è luminoso Come il face and body Di MAC Non fa strisce In effetti Non ha Fatto strisce E Dice che ha 8 ore Di coprenza 8 ore di tenuta Non di coprenza Facciamo Facciamo L'altra parte Con la Con la Real Techniques Questa è L'altra parte Applicata Con una Spugnetta Devo dire la verità Se mi guardate Così La differenza Non è tantissima Se mi guardo Molto da vicino Con il mio Mega specchio Noto che Questa parte qui È applicata In maniera Che io preferisco Sinceramente Qui se mi guardo Se mi guardo da vicino Un minimo Il prodotto Lo vedo In superficie Qui è ben Penetrato Si è unito Molto meglio Alla mia pelle Come vedete Comunque I rossori Ci sono ancora Il brufolo Ancora Lì Che mi saluta Però detto ciò Non mi Non mi lamento Quindi Per coprire Dischromie Eccetera Vado con i correttori Come al solito Per coprire Brufoletti E robe del genere Utilizzo Il Can't Stop Won't Stop Di NYX Professional Makeup Io uso la tonalità Warm Vanilla E sì È un fondotinta Ma è così tanto Coprente E si asciuga subito Tra l'altro Che io lo uso Come correttore Ora finisco Di fare la mia base Faccio le sopracciglia Un leggero trucco occhi E torniamo Per il make up Del viso Perché abbiamo ancora Due prodotti Da provare Abbiamo il blush in crema E lo spray fissante Molto bene ragazzi Allora Ho fatto questo trucco occhi E ho utilizzato La Cali Cali palette Di Mulac Cosmetics Ho praticamente usato Solo Questo ombretto qua Su tutta la palpebra E ci ho fatto Un leggero eyeliner Con un pennello angolato E questo ombretto qui Dopodiché Ho fissato La mia base Con la cipria Di Make Up For Ever Ups Telefono La Ultra HD Ne basta Pochissimissimissima E mi fissa La base Fissando la base Ho sentito Che Si fissa molto Rapidamente Ed è Meno Bagnata Rispetto Al Face & Body Di MAC Che È molto liquido È molto glowy Rimane molto bagnato Sulla pelle Molto luminoso Anche poi Comunque Quando lo settate Lo sentite Che è un po' più Più bagnato No Questo qui Invece No Adesso Scalto un pochino L'incarnato Utilizzo questo bronzer Di Fenty Che si chiama Shady Bees E dopodiché Scegliamo Un bel blush Allora Come blush Ho tre colorazioni Questa qui Si chiama Creative Cleanse Questa qui Si chiama Do me right E questa qui Si chiama Detox me Secondo me Io vorrei mettere Questo Questo è Bello aranciato Questo qui È un rosa Un po' corallo Mi sa che andrò Con questo Io di solito I blush Li metto sempre Con un pennello Duofibre Qui dice Hydrating Cheek tint Gives an all over glow Quindi È bello luminoso Si sfuma facilmente E la pelle Sembra super fresca Io ho fissato La mia base Ovviamente Potete metterlo Prima di fissare La vostra base Ma ho messo Così tanta Tanta poca Polvere Che possa andare Sopra Con un prodotto In crema Se applicato Correttamente Vediamo un pochino Com'è questo colore Effettivamente Anche questo Quando lo metti Senti Tipo bagnato Molto fresco Super fresco È un colore Un po' flash Però forse È un po' too much Proviamo A vedere L'altro colore Forse sta meglio Questo Lo provo a mettere Con questo pennello Duofibra Questa è di Clinique Quindi proprio passo Sopra Così In modo che Sporco le setole E Faccio Come si dice Tolgo un po' L'eccesso Sulla mano E poi tampono In questo modo Occhio che questi blush Sono belli pigmentati Quindi se applicate Troppo prodotto E vi dovete aiutare Nello sfumarlo E Nel farlo Amalgamare bene Con la vostra pelle Con la vostra spugnetta Fate quello che vi ho appena Fatto vedere Applico l'illuminante Io utilizzo Eros Di Mulac Sulle labbra Applico Il nuovo rossetto Di Cleo Makeup Questo si chiama Honey Nude E ora è arrivato Il momento Di fissare Il nostro Makeup Con il Bare With Me Anche questo C'è scritto Prime Set Refresh 8 ore Di idratazione Insomma Come vi dicevo Prima E' uno spray Che puoi usare Sia come prep Quindi sia In fase preparatoria Prima del make up Ma anche per rinfrescarti O per fissare il trucco Proviamo un po' Ha una profumazione leggera Un po' neutra Però si sente E vaporizza proprio bene Caspita E' super super fina L'acqua Non vi fa Le pallotte D'acqua Ottimo Questo mi piace Però ragazzi Fermi Fermi Un secondo Qui dice La pelle Sarà Più liscia Si sentirà Idratata E non secca E non secca E non secca la pelle Tutti i giorni Questo qui E' uno spray Invece da utilizzare Sia prima Che dopo Che durante Per fare refresh Quindi da usare Spesso Dice anche Sensitive skin Friendly Però dentro C'è Dell'alcol Segnato Al terzo posto Cioè Perché hanno fatto Sta cosa Se la linea E' tutta friendly Per la pelle La bellezza naturale Io avrei preferito Qualcosa Tipo Il fix plus Di mac Che Alcol Non ne ha Infatti la sento Un pochino La pelle Perché Quando fisso Con il fix plus Mi sento Super idratata Super glowy Eccetera Il modo in cui Si è asciugato Questo qui Questo spray Di Di nix Mi ha Ricordato Leggermente L'all night Era per quello Che mi è venuto Il dubbio E sono andata a vedere Anche la sensazione Della pelle Perché Molto bene ragazzi Questo era il mio test Così On the go Su strada Più o meno Insomma Test nel mio studio Dei nuovi prodotti Bear with me Di nix professional makeup Almeno quelli Che ho in mano Io In questo momento Lato Fondotinta Io vi dico Non è malaccio Può ricordare Appunto Una specie Di crema Colorata E robe del genere Voglio vedere Come dura Poi Andando avanti Con Con le ore Vedo che mi segna Leggerissimamente Una rughetta Qui Ma Niente di Trascendentale Voglio vedere Un pochino di più Sul lungo periodo Adesso Andrò a cena E vi farò sapere Ed eccolo qui Il momento verità Nel mio bagno A mezzanotte e mezza Dopo una cena Devo dire Che sono rimasta colpita Ed è rimasto Proprio bene E Come vedete Vabbè Lasciate perdere le labbra Che non mi sono mai ritoccata Il risultato Mi piace molto La pelle è naturale E Secondo me Ha retto bene Vedete Non si è aperto Né nulla Sono contenta È tipo Un fondotinta Molto leggero Crema colorata Andrà a sostituire Il mio Studio Blah 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 Face and body Di MAC No Perché questo qua Per me è giovinezza In Bottiglietta Non lo so Mi fa una pelle Unica Nel suo genere Super glowy E tutto quanto Però Se volete Provarlo Secondo me Così Di prima impressione Non è male Detto questo ragazzi Io spero tantissimo Che il video vi sia piaciuto E che vi sia stato utile Se avete domande Mi raccomando Fatemele nei commenti Che sono qui a rispondere Oppure Chi sa Le risposte Nei commenti Le dia Facciamo Questo dibattito Io sono sempre Molto felice Di aprire Queste conversazioni Se il video vi è piaciuto Ragazzi Mi raccomando Ricordatevi di mettere Un bel like Iscrivervi al canale Ed azionare La campanellina Così entrerete a far parte Della Pandemonium Notification Squad E così sarete Tra i primi A sapere Quando ci saranno Nuovi video Di vostre Madre Pandemonium Io vi mando Un bacio gigante Ragazzi E noi ci vediamo Alla prossima Ciao